Lo sheriff è allenato da Roberto Bordin Italiano Italiano E lui ha anche una storia molto particolare Molto interessante Perché è nato in Libia nel 1965 Ora non vorrei sbagliare E il papà si era trasferito in Libia Per lavorare come meccanico Nel 1970 in Libia Sale al comando Gheddafi Quindi la famiglia è costretta a rientrare in Italia E si stabiliscono a Sanremo Proprio a Sanremo con la Sanremese Bordin ne muove i primi passi Poi da lì inizierà la sua guerriera Ma tu pensa lui era un pupillo di Lippi Tant'è che lo segue all'Atalanta Al Napoli Al Napoli diventerà poi un giocatore di risonanza E oltre a Lippi È stato allenato da Sacchi Quindi qualcosa sicuro Avrà recepito Essendo un allenatore italiano Sicuramente studierà la Roma E oltre a Lippi E oltre a Lippi